Penso che abbiamo fatto tanto in due mesi, io personalmente sul fronte sicurezza e migrazione riscontro che con un'azione coraggiosa, responsabile, abbiamo fatto sbarcare 30.000 emigrati in meno e quindi lavoreremo sul fronte delle espulsioni, così poi mi potrò dedicare anima e corpo alla grande battaglia contro mafia, camorra, andrangheta e malavita organizzata. Già questa settimana, anzi domani in Consiglio dei Ministri avrò l'onore di portare un provvedimento che triplica le forze dell'Agenzia dei beni confiscati e sequestrati alla mafia. Quindi dimostrazione che volere potere, abbiamo fatto più noi in due mesi che non la sinistra in anni e poi in autunno bisognerà affrontare la rivoluzione fiscale perché il fronte di sicurezza è importante, però sto trovando ogni giorno gente che sta morendo di tasse, soffocando di tasse, di fisco, di burocrazia, di Equitalia, quindi flat tax, legge fornero, Equitalia, debiti pubblici nei confronti dei privati. Già la manovra economica d'autunno dovrà dare segnali chiari, precisi e coerenti col programma di governo. Inizio, le strade della Romagna però sono invase da prostitute, i sindaci dicono che non hanno poteri e ci si aspetta qualcosa dal governo, che cosa si può fare? È vero, è un'altra delle eredità su cui non è stato fatto nulla in passato, io penso che non basti punire i clienti, occorre ripensare alla normativa sulla prostituzione, sullo sfruttamento della prostituzione in generale, guardando quello che fanno altri paesi europei. Di questo ragionerò con gli amici dei 5 Stelle, non c'è il contratto di governo, però penso che la vendita dei corpi, e soprattutto gestite dalla mafia, alla luce del sole, sia una vergogna che l'Italia non merita e che queste ragazze non meritino. Quindi stiamo ragionando anche su questo, così come sulla lotta alla droga, c'è un preoccupante aumento del consumo e una diminuzione dell'età media dei ragazzini e delle ragazzine del consumo di droga. Alla riapertura dell'anno scolastico voglio essere pronto, stiamo lavorando con il ministro della pubblica istituzione per avere maggiori controlli all'esterno di più scuole possibili.